brodo lo sa il popolo il comune che per ottenere il brodo buono bisogna mettere la carne ad acqua di accia e far bollire la pentola ad agino ad agino e che non trabocchi mai se poi invece di un buon brodo preferiste un buon lesso allora mettete la carne ad acqua bollente senza tanti riguardi e noto pure anche che le ossa spugnose danno sapore e fragranza al brodo ma il brodo di ossa non è nutriente in toscana è uso quasi generale di dare odore al brodo con un mazzettino di erbe aromatiche lo si compone non con le foglie che si disfarebbero ma con i gambi del sedano della carota del prezzemolo e del basilico il tutto in piccolissime proporzioni alcuni aggiungono una sfoglia di cipolla arrostita sulla brace ma questa essendo ventosa non fa per tutti gli stomachi se poi vi piacesse di colorire il brodo all'uso francese non avete altro a fare che mettere dello zucchero al fuoco e quando esso avrà preso il color bruno diluirlo con acqua fresca si fa bollire per riscioglierlo completamente e si conserva in bottiglia per serbare il brodo da un giorno all'altro durante i calori estivi fategli alzare il bollore sera e mattina la schiuma della pentola è il prodotto di due sostanze dell'albumina superficiale della carne che si coagula col calore e si unisce all'ematosina materia colorante del sangue le pentole di terra essendo poco conduttrici del calore sono da preferirsi a quelle di ferro o di rame perché meglio si possono regolare col fuoco fatta eccezione forse per le pentole in ghisa smaltata di fabbrica inglese con la valvola in mezzo al coperchio si è sempre creduto che il brodo fosse un ottimo ed omogeneo nutrimento atto a dar vigore alle forze ma ora i medici spacciano che il brodo non nutrisce e serve più che altro a promuovere nello stomaco i succhi gastrici io non essendo giudice competente in tal materia lascerò ad essi la responsabilità di questa nuova teoria che ha tutta l'apparenza di ripugnare al buonsenso Grazie Grazie